L'arte riesce a mettere a fuoco questa grande sfida dei nostri tempi, laddove la politica europea sembra invece non trovare la chiave di svolta. La politica europea si divide nei modi più forse drammatici, perché la risposta che viene data oggi è altamente una risposta che nega i valori europei e poi è inefficace, completamente inefficace. Quindi vediamo gli stati europei che fanno a gara, a chi costruisce muri, a chi fa peggio. Devo dire che in questo caso io sono orgogliosa del nostro paese che invece sta tenendo il punto. Quindi lavori come questo sicuramente ci aiutano, ci aiutano ad andare avanti con questa linea. Allora, a tutti voi.